Ciao ci sono da combattere combattere ma che cazzo mi spinge il filo di puttana forza e già finita la tua ultima ma secondo mi devi andare a sostegno in discorso lo mangio lo mangio ovvio altrimenti non è dimostrato che è che che è requisito il posto che è re forza arriva a mille cosi e lo mangio oh non mi falli se la sta per fare il flash flash tattico a random e se l'ha fatta ha dimostrato la sua supremazia ragazzi sono gigantissimo ciao lullo viene che ti trovo a pindellate che brutto oddio guarda c'ho gatto ora come si nasconde eh vabbè non puoi nasconderti esatto a me che fa così tanto in sottovole lo sentirete anche craffa perchè io non l'ho muto perchè non sono cattivo e aspetta dove stai andando ah non ne ho ancora spawnato il baron spawno anche a poco il baron vai verso il baron ma chi se ne frega da qua eh però ah ma almeno c'è già un tappi mi mi gusta questo eh eh attenzione proteggerò anche il baron 40% cooldown non a caso eh io già possibile eh almi lo so che ti gusta la mangusta eh ok aspetta aspetta posso spammarlo dietro il drago così nessuno mi vede ovvio che lo taglio no 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 scappa almex scappa ma ci sono ci sono ci sono ci sono vai 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 dove c'è ok vai 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 lotta 5 per piacere io che non posso aspettarvi a sentirvi così è bruttissimo sai che ce la facciamo no ma come è che questo si fa dobbia che poi come ultima cosa andiamo nella base nemica a fare i fighi e le prendiamo e non ti voglio io morirò con onore compro il red buff anzi me lo faccio non ti voglio ma mi farò il red buff orate vane vane la destrazione mi ha fatto esplodere rip 5 stiamo registrando silver ciao mondo eh ciao mondo comunque questo video a caso finisce qui alla prossima con questo video ciò il tp sopra 2 minuti io ci muoio addio è stato bello conoscerti almex eh questo video finisce qui con questo è password ever è vero con una luna che fa così quindi sì che balla sul su un cazzo noi ci vediamo al prossimo video bye bye bella lì addio ciao 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 ciao